Che vuoi? Uomini e donne, Sara Affifella e la sua sorpresa per Emanuele Trimarchi Vinzuiden Arrivano nuove sorprendenti news dal trono classico di Maria De Filippi. Rieccoci qui a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci del trono classico di Uomini e donne . Come molti sapranno, al momento in studio sono presenti 5 tronisti, Nicolo Briganti, Nilu Faradati, Sara Affifella, Mariano Catanzaro e Paolo Crivellin. Ci prendiamo la libertà di considerare questultimo come un tronista dello show, dato che non si sa ancora se si ritirerà o rimarrà in carica. Comunque sia, fra tutti i giovani sopracitati quella che più sta coinvolgendo il pubblico nelle dinamiche del suo trono è Sara. Il trono di Sara. . Dall'inizio del suo trono ad oggi Sara Affifella ha dovuto affrontare mille problemi e mille critiche, dovute soprattutto alla fine di una sua precedente relazione. . Tutti i telespettatori di Uomini e donne, infatti, sapranno benissimo che la ragazza è stata la fidanzata di Nicola Panico fino a pochi giorni prima di diventare tronista. . Inoltre, Sara ed il suo ormai ex fidanzato avevano partecipato insieme quest'estate all'ultima edizione di Temptation Island, video. Ovviamente tutte queste ragioni avevano portato il pubblico di Maria De Filippi a diffidare della Affifella e a criticarla aspramente. . . Oggi, però, a distanza di diverse settimane dai fatti sopracitati sembra che le cose per Sara si siano semplificate, portando la giovane a potersi dedicare tranquillamente ai suoi corteggiatori. . . Se fin dall'inizio del suo percorso sembrava che la tronista fosse interessata solo a Lorenzo, in queste ore invece possiamo affermare che a Sara forse interessa anche un altro ragazzo. . Quest'ultimo altri non è che Emanuele Trimarchica nella scorsa registrazione ha deciso all'improvviso di abbandonare lo studio. . Nonostante questo, però, sembra che le cose fra lui e la tronista non siano destinate a concludersi così presto, grazie ad un gesto fatto proprio da Sara nella giornata di ieri. . . Oggi, grazie ad uno scoop fatto dal vicolo delle Neves, possiamo informarvi che Sara Affifella è stata avvistata ieri sera fuori dalla casa di Emanuele. . Ovviamente è facile dedurre che l'ex di Nicola Panico si sia recata a casa del suo corteggiatore per convincerlo a ritornare in studio per lei. . Lo farà Emanuele? Per rispondere a questa domanda non ci resta altro che aspettare le nuove registrazioni dello show. . Per il momento è tutto con le nuove news provenienti dal mondo del gossip e della televisione, per ulteriori aggiornamenti vi diamo appuntamento a più tardi sempre qui su Blastino News. . .